Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e quindi iscriviti al canale, clicca sulla campanella e condividi i miei video nei tuoi social e me e lasciami un bel like per supportarmi. Oggi sfogliamo insieme Burda Easy 5 2022 e che aspettavo con tanta trepidazione e ansia, adesso andiamo a vedere perché. Sfogliamo tutti i modelli che ci propone. Per prima abbiamo questa bellissima maglia che è stata realizzata in jersey e queste maglie in jersey ce le propone di tre tipi diversi. Questa ha le maniche corte diciamo e non arrivano al gomito, poi questa è la 1A, poi abbiamo la 1C che invece rimane sempre lunga perché sono tutte lungo uguali, nella parte del dietro sono 62 cm, se non sbaglio, nel dietro sono 66 cm e in questo caso abbiamo le maniche lunghe. Il modello è identico, quindi quello che cambia sono le maniche. I tessuti ovviamente che sono consigliati sono i tessuti elasticizzati e in jersey. Per cucire questa maglia ovviamente abbiamo bisogno di aghi adatti, per esempio bisogna cambiare la macchina per cucire gli aghi, quindi dall'ago normale all'ago jersey. E anche il doppio ago con cui ci consiglia Burda di rifinire sia l'orlo della maglia e sia l'orlo delle delle maniche con il doppio ago. Anche in questo caso il doppio ago li troviamo anche con anche jersey, il doppio ago jersey. E qua invece a tre quarti, che mi piace particolarmente, a me piace moltissimo, mi piacciono moltissimo le maniche a tre quarti, non sono né troppo lunghe né troppo corte. E questo modello è stato realizzato in jersey. La caratteristica di queste maglie, come possiamo vedere qui, è il fatto che abbiano questo collo, questo collo rimesso. Qua vediamo i tre modelli diversi che possiamo realizzare, l'1a, 1b, 1c ed è carino anche perché possiamo utilizzare dei tessuti diversi, di colore diverso. Quindi per esempio il collo, il colletto, lo possiamo fare di un colore diverso. Questa maglia l'aspettavo con ansia perché? Perché il 7 di ottobre farò una diretta con la Neki e in collaborazione quindi con la Neki e con Emanuele Tonioni in Facebook nella pagina di Neki Shop. Quindi vi aspetto numerosi, segnatevi la data perché cuciremo insieme questa maglietta. Qua abbiamo tutta la scuola di cucito e qui invece abbiamo un vestito, l'abito con le maniche extra lunghe, che rimangono un po' larghe nella parte del fondo. Ovviamente questa facendola più corta possiamo farci anche una maglia volendo ed è stata realizzata con il twill di Viscosa Fantasia. Questo invece è il 2b, è stato realizzato invece con un velluto, un tessuto che a me piace tantissimo, questo velluto elasticizzato ed è uno dei tessuti che va più di moda in questa stagione. Poiché questa stagione rimane elasticizzato quindi ci permette di fare veramente tantissimi abitini o vestitini o comunque magliettine molto molto carine. Il collo come vediamo rimane bello tondo, il 2b rimane un modello un pochettino più corto con le maniche anch'esse più corte con questa volante, questa specie di balsa. Questo modello è il 2c, è un abito con cintura, ovviamente la cintura la possiamo mettere anche negli abiti che abbiamo visto precedentemente. Mi piace molto questo abito indossato con gli stivali, mi piace veramente tantissimo. Ed è il 2c, ha la lunghezza al ginocchio, le maniche a 7 ottavi ed è confezionato in un voile fantasia. Il punto vita è sottolineato da questa cintura da nodare quindi è assolutamente adatto a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera. Qui vediamo tutti e tre i modelli. I tessuti consigliati sono i tessuti leggeri per abiti di cotone, viscosa e microfibra. E naturalmente anche twill di viscosa, velluto pannei e voile di cotone. Qui abbiamo tutta la spiegazione passo passo e qui invece abbiamo i pantaloni che sono molto semplici da realizzare, anche questi, che ricordano gli anni 70. Io avevo fatto un paio di pantaloni così, li avevo disegnati da me in realtà con questo spacco laterale. Il 3c sono pantaloni con gli spacchi che sono adatti per una serata in discoteca, un party, una festa e via dicendo. Hanno l'elastico in vita e ho lo svasato. Il 3a invece sono pantaloni 7 ottavi, rimangono più corti rispetto a quelli che abbiamo visto prima, l'ampienza dell'orlo è minore, quindi lascia scoperte le caviglie perché rimane più corto. Chiaramente se non hai le gambe lunghe te lo sconsiglio altamente. Ed è stato stato realizzato in tessuto di poliestere elasticizzato. Mentre qui abbiamo i pantaloni 3b. Questi sono pantaloni che sono stati realizzati in ciniglia, ricordiamoci che la ciniglia è un tessuto che fa sembrare le forme più robuste, quindi se non sei super super magra te lo sconsiglio. Sono pantaloni a zampa, questi pantaloni ovviamente li possiamo realizzare con un tessuto diverso dalla ciniglia ovviamente. L'importante è che siano elastici. Hanno l'elastico in vita, molto carini, questi mi piacerebbe realizzarli. Qua ci sono tutti i tre tipi di pantaloni che abbiamo visto, il 3a che ha questo spacco laterale, il 3b e il 3c. Questa è la scuola di cucito e qui abbiamo la 4a, una blusa con manica 7 ottavi ed è una blusa molto molto carina e delegata. Mi piacciono molto queste bluse che hanno questo collo a sciarpa che è una semplice striscia di tessuta, tessuta e più cucita dietro, quindi è facilissimo, sembra molto difficile da fare ma posso assicurare che veramente è facile. E fa tanta scena, ecco, è veramente molto carino. E abbiamo il 4a con manica 7 ottavi. Qua abbiamo il 4c che ha la manica lunga, è una blusa che rimane più lunga e più lunga è una cintura da nodare in vita, quindi possiamo anche annodarla in vita. La 4b invece è una blusa che è stata realizzata in seta con le maniche lunghe. Se hai paura di lavorare la seta ti consiglio un video che ho fatto inerente a come cucire la seta dalla A alla Z, quindi tutti i consigli, gli aghi da utilizzare, i punti da utilizzare con la macchina per cucire, come fare gli orli, come rifinirli. Quindi vai a guardarlo se ne hai bisogno ed è veramente molto carino e anche molto elegante. Qui abbiamo tutte le tre varianti delle bluse con i fiocchi, la 4a, 4b e 4c. I tessuti che sono consigliati sono tessuti leggeri per camicette, quindi popelin di cotone, seta stretch, raso di cotone stampato. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito, un'altra foto della maglia indossata, della blusa indossata, molto bella. E qui abbiamo una bellissima giacca in saten, in questo caso è la 5a, la linea è dritta, ha un ampio collo arrotondato e bottoni automatici decorativi in metallo. Si può indossare non solo con un abitino, per esempio un tubino nero, ce la vedo, eccetera, ma anche come in questo caso con i jeans, quindi è una giacca versatile. La 5b invece è il capotto che rimane più corto, è stato realizzato in lana con colletto bebè e bottoni automatici. Qui è stato abbinato con i pantaloni in pelle, molto bello anche questo, il modello è bellissimo, mi piace veramente molto. Mentre qui abbiamo lo spolverino, il 5c con cintura, quindi questo ricorda il trench, anche se è più facile rispetto al trench da cucire, quindi se vuoi un pochettino osare a cucire qualcosa di più continuo o più impegnativo potresti cucire questo. Tra l'altro c'è anche la scuola di cucito, quindi diciamo che è anche più facile, ci può spaventare un po' di meno. Questi sono i tre modelli che ci propone, tessuti consigliati, sono tessuti leggermente sostenuti per le giacche e cappotti, tipo raso, mistolano o similpelle. E qui abbiamo, questa è la mia preferita, anche le altre mi piacciono. La cosa che mi piace di più di questo è il colletto alla bebè, molto molto bello. E qui abbiamo tutta la scuola di cucito, quindi ci fa spaventare un po' meno. Abbiamo sfogliato Burda Easy 5 2022, quindi come abbiamo visto ci sono tutti i modelli bellissimi, a me piace tutto. Prima maglia la faremo insieme, farò la diretta con la Neki e Emanuele Tonioni, e metterò anche un tutorial passo passo, perché chiaramente nelle dirette non si possono far vedere tutti i passaggi, quindi nel mio canale, iscriviti se non l'hai ancora fatto, ti farò vedere tutti i passaggi su come fare la maglia, l'abito, lo stesso mi piace tantissimo, anche questo lo vorrei fare, magari lo faccio più corto, in modo tale da usarlo come blusa, dato che io gli abiti d'inverno non riesco tanto a usarli, però lo potrei fare anche come abito, poi potrei indossarlo con gli stivali. Poi mi piacciono sia i pantaloni a zampa, molto molto belli, questi sono carini anche per fare ginnastica, secondo me per andare in palestra, le bluse mi piacciono da morire, e mi piacciono anche la giacca e il cappotti. Diciamo che mi piace tutto, però voglio sapere cosa ne pensi tu, che cosa piace, se comprerai Burda Easy di 5 2022, che puoi trovare sia nell'edicola che nei centri commerciali, fammi sapere, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, regalami un bel like, e condividi i miei video, e io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao!